se mi guardi non ci riesco cosa devo fare? devo uscire? no grazie così ok potresti aver fatto così come hai fatto? magia o forse bastava fare così io non ho usato il chiodo io non dico che tu hai usato il chiodo c'è un chiodo lì e tu eri gli spalle tu dici che io ho usato il chiodo ma io non ho usato il chiodo non mi fraintendere io non dico che tu hai usato il chiodo ma io sono qui per studiarti grazie